Una notte di San Lorenzo davvero speciale a Cepagatti con tante belle iniziative che hanno richiamato davvero tantissima gente. Anna Lisa Palosso, Vice Sindaco. Siamo alla quinta edizione di questa bella iniziativa che si chiama Magia al Castello perché si svolge appunto sotto i piedi del castello Marco Antonio e della Torre Alex nel bellissimo centro storico di Cepagatti. Questa sera osserviamo le stelle con i telescopi, c'è un momento di divulgazione scientifica con l'astronomo dottor Antonio Pepe e soprattutto tantissimi artisti di strada, ballerine sospese, su tessuti aerei, pole dance, concerti dal vivo, sax, pianoforte, tanti musicisti e tanta gente che ci è venuta a trovare. State dimostrando che si può fare anche un'estate, una bella estate anche lontani dalla costa? Sì, il nostro impegno era proprio quello di far scoprire le aree più interne anche se siamo a 15 km da Pescara e dalla costa pescarese però è bello, l'Abruzzo è tutto bello, anche la zona della vallata del Pescara, la zona collinare. Quindi ci sono tante attrazioni anche nell'interno, non soltanto lungomare e molte persone scelgono anche di non rimanere solo nella zona costiera ma anche di scoprire le aree interne abruzzesi che sono per me una forza della nostra regione. Per il resto, vice sindaco analista a Palozzo, soddisfatta di quest'estate, dove avete organizzato davvero spettacoli per tutti i gusti? Beh sì, abbiamo cercato di accontentare un po' tutti, dai grandi ai piccini, ieri sera una grande serata di musica e danza con ballerini e coreografi, ci sono stati Gioia e Rina qui in piazza Schumann e quindi sono venute tantissime scuole di banno ma soprattutto tantissime persone a divertirsi, ci hanno fatto ballare alla grande. Proseguiremo domani con una serata dedicata alla moda, allo spettacolo e poi fino ad arrivare alle famose feste di San Rocco per cui vi invitiamo tutti il 16 agosto, la mattina alle 9, dalle 9 fino a mezzogiorno per la sfilata dei carri che è una nostra tradizione, la sfilata dei carri e dei taralli, la benedizione dei taralli con la vendita poi dei taralli e il ricavato andrà alla parrocchia di Santa Lucia. Grazie.